Rimane difficilissima la situazione legata alla crisi idrica anche per il mondo agricolo. Nel comprensorio di Ribera si attende che il Consorzio di Bonifica inizi la distribuzione dei circa 2 milioni di metri cubi d'acqua della diga Castello destinati all'irrigazione. È importante iniziare ad irrigare fermo restando che la nostra richiesta è che venga assegnato un ulteriore milione e mezzo di metri cubi d'acqua per garantire un'irrigazione anche ad agosto dichiara al nostro telegiornale il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. Il dato è quello che conosciamo cioè che sono stati assegnati 2 milioni e 35 mila metri cubi d'acqua dalla diga Castello per uso e riguo e ora si attende, si sono fatte diverse riunioni, diversi tavoli che il Consorzio di Bonifica inizi la distribuzione dell'acqua per uso e riguo. C'è la richiesta da parte di alcuni agricoltori nei confronti dei signori stati che con quest'acqua si possano realizzare due irrigazioni, cioè si dividano in due irrigazioni programmate. Il Consorzio sembra invece dell'idea di iniziare con un'irrigazione e completarla. Ma il problema vero è che noi, mi sono sentito con i colleghi sindaci del comprensorio insieme anche alle organizzazioni di categoria, insisteremo perché possa essere assegnato un altro milione, milioni e mezzo di metri cubi d'acqua così da poter garantire certamente anche in agosto un'ulteriore irrigazione ai nostri terreni considerata la siccità persistente e veramente senza precedenti. Questo è quello che chiederemo in incontri che avremo sul tavolo che è stato costituito tecnico, mi sono sentito già con l'architetto Lamedola che è il responsabile del Genio Civile a cui è affidata dal Presidente della Regione questa situazione. Ci sentiremo con l'autorità di Bacino. Intanto la priorità sarà iniziare subito. Il Consorzio di Bonifica effettua delle riparazioni che deve effettuare sul Condotte e deve iniziare subito a inizio di settimana prossima la distribuzione dell'acqua per l'irrigazione. Dopodiché insisteremo e continueremo ad insistere perché si possono avere più volumi d'acqua cioè quel milione, milione e due, milione e mezzo di metri cubi in più che permetterebbe anche in agosto di fare un'ulteriore irrigazione di soccorso sempre per salvare gli impianti, le piante perché voglio ripetere il danno economico, le nostre imprese agricole, il nostro territorio l'ha già subito perché il prodotto è compromesso con queste irrigazioni si spera di poter salvare gli impianti che dopo decenni di sacrifici avevano fatto di ribera l'eccellenza per la nostra arancia. Nel frattempo, in piena emergenza idrica, l'acqua del fiume Sosio Verdura continua a finire in mare, uno spreco che ha generato tanta rabbia tra gli agricoltori riberesi, questo il commento del sindaco di Ribera. È certo, è certo che è così. Noi da mesi che abbiamo chiesto che venisse travasata l'acqua dalla diga Gamauta alla diga Castello per non farla finire a mare perché poi se ne va sull'alvio del fiume dopo la produzione di energia elettrica per sfociare a mare. Quei mesi sarebbero stati, da febbraio che abbiamo iniziato a fare i tavoli tecnici, sarebbero stati fondamentali per accumulare quanta più acqua possibile nella diga Castello. Tant'è, si è arrivata ad ora, ancora parte dell'acqua si disperde, ci sono le fluenze che arrivano dall'altra parte del Sosio e che rischiano di disperdersi anche quelle. Dobbiamo considerare anche che va rilanciata l'acqua nei territori dell'alto verdura, basso sosio, cioè i territori che riguardano i comuni di Villafranca e di Burgio perché anche là ci sono agrumeti da salvaguardare e però si perde tempo a realizzare tavoli, a discutere delle problematiche ma fattivamente non si attivano le misure necessarie. Io mi auguro che quest'ulteriore tavolo tecnico che è stato istituito a livello provinciale possa accelerare i tempi per impiegare le risorse che sono state stanziate sul territorio riberese e realizzare quegli impianti che già dall'anno prossimo speriamo ci facciano penare meno.